Come sapete abbiamo convocato questa conferenza stampa per parlare del tema che ieri sera mi ha lasciato abbastanza interdetto e cioè del fatto che non noi, non il Movimento 5 Stelle, ma in questo momento la Lega abbia addirittura messo in discussione il Governo legandolo al tema TAV. Ci tengo a dire che quando è venuta fuori l'analisi costi-benefici non era il risultato scontato perché su altre opere, su cui noi eravamo contro quando sono partite, siccome erano in un certo stadio d'avanzamento, l'analisi costi-benefici ha detto che dovevano andare avanti. Questioni che qualcuno potrebbe definire anche fondamentali per il Movimento, il Terzo Valico, il Brennero, il TAP e non è che ho messo in discussione il metodo, l'ho condiviso, come capo politico mi sono assunto la responsabilità a nome del Movimento nella maggioranza di portare avanti quelle opere. Ora, questo lo dico perché non si può essere, non si può fare gli arbitri a partita finita e dire no, l'analisi non convince. E no, quello è il nostro metodo d'azione, altrimenti poi dobbiamo rimettere in discussione ogni volta che non ci piace il risultato di un'analisi costi-benefici, l'esito della decisione politica e non credo che possa essere così. Allora, io credo che questo richieda anche una serietà, una serietà che io ho tenuto nei confronti del contratto di governo dal primo giorno di questo governo. Lo dico anche agli elettori della Lega. Cosa poteva accadere se avessi messo in discussione la legittima difesa che non ho fatto e non farò nel contratto di governo? Se avessi messo in discussione il decreto sicurezza o se avessi messo in discussione gli altri provvedimenti? Vi sareste arrabbiati? Ed è per questo che c'è un certo disappunto, chiamiamolo così, all'interno del Movimento 5 Stelle. Perché noi ci siamo battuti per mettere nel contratto di governo questo tema e vogliamo che si realizzi. Ma non si può mettere a rischio un governo per un punto che è all'interno del contratto di governo. È un paradosso. Non è una questione di testa dura, perché chi ha la testa più dura, questi sono discorsi da bambini. Qui dobbiamo sederci al tavolo, lavorare affinché inizi la ridiscussione integrale di quest'opera. E allo stesso tempo evitare di vincolare soldi degli italiani. Perché altrimenti significa soltanto creare un danno alle casse dello Stato, alle tasse dei cittadini, di tutti i cittadini italiani. Quindi non mi si può dire che ci rivediamo lunedì. Questo è un fine settimana di lavoro. È un fine settimana in cui si devono portare a casa gli obiettivi che abbiamo messo nel contratto di governo.